Ma quella lì, quella rosa? Quella rosa. Ma qui l'estate secondo me sarà un po' di ossa. Acqua. Ma non vediamo nemmeno qui in questo roso. Ma non vediamo nemmeno qui in questo roso. In questo roso. La città della terra. E' una ristruttura recerta. La franocua. Ma la vecchia. E' un roso. E' un roso. Ah, va, va! Ah, no, mi tirano! Ah, tutta la strada! Si entrava da qui o probabilmente? Ah, ecco! Ah, un teatro! Oh, ma che bello! Ah, che bello! Allora, vediamo, io mi metto lì sotto, vediamo se voi sentite bene. Dai! Ma questi posti dovrebbero avere un'acustica molto raffinata. Certo, è stata apposta! Ah, trovo! Aspettatore! Aspettatore! Giovanni, chi scende? Mi senti? C'è bisogno che grido? No! No! Si può parlare piano anche! Guardatevi però anche sotto, ditevi che c'è più qualcuno! C'è qualcuno? No! No, è un po' più indietro la scena! Lì c'era il coro, mi pare! Certo, no? E' lì il punto! Dove sei ora è la scena! Ma da dove è possibile? Certo, vedi! Lì c'è un po' più indietro! Qua roda da dove è possibile? No! Lì c'è un po' più indietro! È un po' più indietro! È un po' più indietro! Sienned Siannebbe... Chissà l'opera! Sì, 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 sì. è venuto 5 minuti